No, 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 no. Colleghi, ve lo dicevo noi come si risolve la crisi. Per esempio, se Simone fa la spesa a Federica, poi Federica insegna a Chiara e Niccolò come si fa una marmellata. E dopo Chiara e Niccolò danno una mano a Antonio a lavare la macchina. Antonio poi insegna agli altri come si balla il tango. E poi tutti aiutano Gino a fare il traslato. Così alla fine Gino viene qua ad aiutare me e non costa un euro. E questo è il mio mercato che cresce. Semplice, no?